Secondo me già adesso potrebbe convenirmi andare all'estero se facciamo il bilancio tra questioni perse e soldi risparmiati in tasse Però un po' come Salvatore Aranzulla che fattura milioni e paga milioni in tasse ma comunque sta in Italia perché gli piace stare in Italia Anch'io apprezzo così tanto in questo momento questo mio stile di vita milanese che non sto valutando di andarmi all'estero Quando si pagano le tasse verso dicembre ogni anno mi metto a tavolino e dico ok questo forse è l'anno buono in cui me ne vado Lo scorso anno pensavo che nel 2023 me ne sarei andato dall'Italia Probabilmente non succederà in questo 2023, forse succederà nel 2024 Una cosa certa un periodo nella mia vita prima dei 40 anni me lo farò all'estero poco ma sicuro